C'è l'impiegata che arriva a prostituirsi per far fronte ai debiti accumulati con le slot, un imprenditore costretto a dichiarare fallimento dopo aver perso tutto con le scommesse online e il professore, che senza aver messo piede in una sala giochi, si è rovinato con lo smartphone, restando comodamente sdraiato sul divano di casa. Il report elaborato dall'ufficio parlamentare di bilancio consegna all'Abruzzo l'immagine della regione italiana con la raccolta pro capite più alta per il gioco d'azzardo, 1.767 euro che prevedono il volo tra slot machine, tagliandi della fortuna, scommesse online, lotterie. Per fortuna che l'inversione di tendenza si assulmona, almeno stando alla nostra rapida raccolta di opinioni. Io non ci gioco mai perché è solo a perdere, non è, diciamo, delle vincite, è tutto per lo Stato. Lei gioca all'otto? Non è il mio forte, gli soldati a chi se ne regala proprio. Qualche volta al 10 e l'otto, ma giusto un euro, due euro, così per sfizio. Mai, gioco controllato, misurato, mai buttare i soldi per queste cose. Non gioco più. Sì, ogni tanto. Vabbè, grazie a Vigi, bisogna giocare ogni tanto.